Sicuramente un po' di rammarico c'è, però poi se andiamo a analizzare bene, la partita con Rieti, credo che venivamo da tre partite sotto l'aspetto mentale e fisico importantissime, abbiamo speso tantissimo e ci poteva stare quel tipo di prestazione. Con Rieti, l'ho sempre detto, era una partita dove noi non abbiamo giocato ma eravamo troppo scarichi. Per il resto, se vogliamo dire, un piccolo neo di questa squadra che ne recuperi abbiamo pareggiato in casa, però è dovuto anche al fatto che noi veniamo da circa 40 giorni, abbiamo fatto la decima partita, credo che sia un tour de force incredibile perché poi quest'anno è un'esperienza nuova anche per noi allenatori. allenare, preparare la partita in un giorno ma devi pensare al recupero, l'aspetto mentale è fondamentale perché giocare ogni tre giorni ti logora e credo che questa squadra sta facendo delle grandissime cose. il rammarico c'è perché poi se pensiamo che ne vincevamo due di quelle tre pareggi in casa che abbiamo fatto, oggi eravamo lì davanti, però continuiamo a fare, siamo contenti di quello che stiamo facendo, dobbiamo rimanere agganciati il più possibile lì davanti e poi nelle ultime sette, otto partite ci sarà la volata finale, sperando di giocare con più continuità una volta ogni sette giorni, così ci si può allenare, ci si può riposare, perché noi adesso, ti ripeto, dopo 40 giorni abbiamo fatto nove partite, mi sembra, ho dieci, adesso ne perdo forse una. Giustamente adesso ce ne andiamo a casa tre giorni, due giorni e mezzo ci riposiamo perché abbiamo proprio bisogno fisico, mentale, tutte e due, quindi non vedevo l'ora che veniva questa partita per dare lo stacco alla squadra. Ecco mister, al netto di questo quanto è importante allora la sosta, anche per valutare dei giocatori che non stanno in forma, oggi avete perso anche Blando durante la partita, ecco una pausa, come hai detto, che arriva nel momento migliore. Blando ci dispiace perché il ragazzo ha sentito tirare dietro il flessore e di questo ce ne dispiace, fortunatamente adesso abbiamo 15 giorni per ricaricare le batterie, per cercare di recuperare qualche giocatore, dopo la sosta dovrebbe rientrare, anzi rientra anche Lattarulo che già si sta allenando da un mese con noi, quindi sarà un giocatore in più, un rinforzo in più in questa squadra che rientra e speriamo che ci dia una grossa mano da quella fine.